E benessi amici miei, benvenuti in questo nuovo video, oggi parleremo di Napoli, ma non dei sospetti più comuni, non parleremo del Vesuvio, non parleremo della pizza, non parleremo di Totò e nemmeno del Napoli, sui tifosi e il mitico numero 10. Ebbene, di che parleremo mai? Parliamo di un giorno dell'anno in cui questa città assume totalmente un'altra faccia e cambia da così a così. Oggi è il grande giorno, oggi spareremo di tutto e di più, minalo, l'ha menato! Vesuvio! Dai 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 Grazie a tutti Non ci fossero sempre tutti questi posti In Vito Graziana non dovrei stare in canina A cercare un posto E oggi ovviamente Ecco qua Ci sono 3000 posti Guardate qua Guardate qua La posta è la posta La posta è la posta Tutta è parta E lo torno a casa A casa mia A casa mia semplicemente Però ho dimenticato le botte a casa di nonna Dopo ho fatto il cenone Adesso mi tocca Scegliere Uscire nel Bagdad Non è mai semplicemente C'è che c'è di gusto Futuro Scegliere 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 Foghi presi Si torna a casa Ok 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 Scegliere 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 Auria a tutti Pagano Scegliere 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 Ma ce ne hoquetano Vaiày Vai, vai! Che buccia? Che buccia? Voi! 3, 2, 0, 3, 2, 3, 4, 4! Voi caçar! Vai! Vai, vai, vai! Ma se non, non è caduto? Caduto? Vai, caduto? Vai, 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 vai! Voi! Vai, vai, vai! E' la fulgurra! E' tu. E' quello forte da parte dì! Non ti avevo visto la batteria, eh? Non ti aveva fatto quattro, se non è penato! Aburi! 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 Gesù si è Bruno! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!